si dice che il principe william si è arrabbiato per il fatto che il suo fratello separato il principe ferry continui ad avere una partnership con netflix nonostante la rappresentazione della famiglia reale fatta dalla piattaforma secondo quanto riferito il principe william è furioso perché suo fratello il principe ferry continua a mantenere un accordo con netflix nonostante la piattaforma di streaming sfrutti spietatamente la famiglia reale ciò avviene mentre netflix si prepara a pubblicare la sesta e ultima serie della sua serie drammatica di grande successo the crown che ha seguito cronologicamente la società dagli anni 50 e si fermerà nel 2005 l'ultima serie descriverà eventi come la morte della principessa diana in un incidente stradale a parigi con il suo fantasma che apparirà più tardi nello spettacolo un amico del principe di galles ha dichiarato al daily beast william è arrabbiato per molte cose legate a ferry la sua decisione di lavorare con netflix che ha sfruttato spietatamente la famiglia è sicuramente una di queste è incredibilmente doloroso vedere sua madre sfruttata più e più volte in questo modo pacchiano da netflix non lo guarderà ma ne sarà completamente disgustato ferry e sua moglie megan markle hanno firmato una serie di accordi di intrattenimento dopo essersi dimessi dalla famiglia reale e trasferirsi in california nel 2020 la loro partnership con spotify si è conclusa all'inizio di questa estate dopo solo una serie di podcast di megan archetype tuttavia si dice che siano in trattative per firmare un altro accordo con audible di amazon hanno anche prodotto contenuti per netflix inclusa la controversa serie di documentari ferry megan che ha svelato la loro relazione e le loro esperienze nello studio la loro relazione e 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 la loro relazione Grazie a tutti.